dell'aria, va incontro al pallone anche Pedone, ancora Pallabona in area di rigore, Pedone sinistro di Pedone il terzo gol del Milan, è una splendida rete firmata da Alex Pedone che si riscatta dopo l'errore di qualche secondo fa, si sistema la palla sul sinistro e infila alle spalle di Perilli gran gol di Pedone, molto bravo a dribblare in area di rigore, eccolo qui riceve palla sul destro, dribbla un difensore e poi fulmina Perilli con questo preciso sinistro a rientrare Sassuolo 0, Milan 3 nel secondo tempo della gara dello stadio Ricci e ormai